Sono una ruttaciera, attacchiero. Lascia fare a me. Sangue e chiava a sangue. Ricorderò questo momento, Nicolai. Non ti invadono! Che bello! Adesso potete mandarmi anche il resto, capito? Ci restano pochi colpi in canna. No! 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 Sì. La mensa! Meglio non restare qui, se non vogliamo finire sul menù. Dempsey, non trovi che Richthofen si comporti in modo strano? Più ci addentriamo in questo reame, più avverto il peso che grava sul suo animo. Ora che me lo fai notare, mi sembra ancora più sbagliato il rischio, ma se ho un posto delle lezioni al massimo, vuol dire che sei messo peggio di quel direttore di merda. Ehi, che rimasto un po' un po' un po' un po' un po' pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-te. Calpensiere! L'energia fluisce nel mio corpo. Non puoi tagliarti quelle unchie del cazzo! Non avrai il mio sangue, né la mia carne! Tra poco mi serviranno altre ultime salve di te! Respiro ancora e posso ancora sparare!